siamo nella zona di di scina zona sud di la mezza un'altra contrada sarebbe contrada papazzo questa ma ha una via nuova che adesso non mi viene c'è la scuola nuova qui a scina anche qui forse sono un po ecco forse dall'altra parte la più critica la parte verso l'autostrada è la zona più critica di la mezza il signore si ferma sul marciapiede questa è la zona dell'aerotatore nuova siamo nella zona del bar per rice dai lati dai lati c'è un soffogamento stradale dell'acqua ma la carreggiata è ben libera meglio meglio così ma la parte dell'autostrada lì dalla parte della cantina sociale autatoria che porta poi nell'abitato del nel quartiere di segapizzaglie c'era davvero l'acqua molto molto critica sulla strada mamma mia che maltempo quella è la zona più critica eh qua siamo all'ingresso di la mezza sud arrivando dall'autostrada insomma stiamo arrivando a quella ben detta rotatore di prima ora sono della parte sud ho fatto il giro di video il progresso mamma mia prima la paura si viene a distaccare mamma mia il punto critico l'abbiamo passato sembra assieme adesso giro di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia. Mamma mia.